Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi ho deciso di analizzare più in dettaglio questo 2002 di casa Alfa Romeo e di vedere appunto se risulta essere a distanza di qualche anno un motore affidabile ed eventualmente quali sono e quali sono state le sue criticità o punti deboli. Allora questo motore diciamo è stato presentato, il suo lancio è avvenuto nel 2016, quindi sei anni fa circa. A distanza di questi sei anni si è rivelato essere un motore piuttosto affidabile e soprattutto non ha rivelato delle grosse problematiche a livello di progettazione o comunque sia di costruzione appunto. Quando parlo di grossi problemi intendo vedi catena di distribuzione sugli N47 BMW, pompa CP4 Bosch del gruppo Volkswagen oppure bronzine del 3000 WM, ecco questi sono i problemi che intendo gravi. Su questo propulsore problemi di gravità simile diciamo che non ce ne sono stati. Ci sono state diciamo delle problematiche ma innanzitutto risolvibili e soprattutto di minore entità che ora vi spiegherò meglio nel dettaglio. Allora partiamo subito nell'analizzare diciamo il primo problema che ha avuto questo motore che è inerente al filtro dell'aria posizionato qua sotto. È un problema che hanno avuto in particolare le versioni del 2016-2017 quindi subito le prime annate poi diciamo è stato risolto. In che cosa consisteva? Consisteva sostanzialmente nell'imbrattamento del filtro dell'aria mediante l'olio motore. Come avveniva ciò? Avveniva mediante il recupero dei vapori dell'olio del basamento perché questo che vedete che è il condotto d'aspirazione che va alla turbina proprio posizionato subito prima della turbina qui sotto c'è una tubazione che rimette i vapori dell'olio nell'aspirazione e diciamo che questo ha portato all'imbrattamento del filtro dell'aria nelle prime versioni. Proprio si imbrattava con l'olio motore. Come è stato risolto? È stata una problematica che è stata risolta all'incirca nel 2018 adottando o meglio aggiornando modificando quello che è il filtro recupero vapori dell'olio che è posizionato qua giù sotto dietro praticamente al tendi cinghie regolabile della cinghie dei servizi e praticamente con il filtro aggiornato la situazione è migliorata di molto quindi non abbiamo più l'imbrattamento del filtro aria anche se comunque sia permane un certo imbrattamento a livello proprio dei dei condotti però il filtro dell'aria risulta pulito insomma. Quando parlo di filtro blow by quindi filtro recupero vapori olio non intendo solo la problematica del filtro dell'aria ma annesso appunto a quel filtro ci posso si possono sviluppare anche se a livello statistico puramente di casistica i casi sono molto minori si possono sviluppare comunque sia altri problemi e tra i più comuni a qualcuno ad esempio è capitato la fuoriuscita dei dei tappi così dei contralberi di equilibratura di bilanciamento con la conseguente fuoriuscita di olio praticamente questo motore è dotato di due contralberi che servono appunto per l'equilibratura e uno di questi proprio qua davanti è dotato di un tappo che se salta se viene sputato fuori ad esempio dalla pressione interna al basamento svuota il motore dall'olio e come si fa a evitare queste problematiche semplice bisogna mantenere il filtro recupero vapori olio in buono stato quindi a ogni genere si consiglia ogni cambio della cinghia di distribuzione di sostituire anche l'apposito filtro in modo tale sempre da tenere le pressioni all'interno del basamento ad un livello più o meno adeguato e ad evitare problemi di sovra pressione al suo interno appunto ricordiamo inoltre che le contro pressione le pressioni all'interno del basamento possono provocare anche altri problemi vedi tra i quali ad esempio nei modelli dove c'è l'astina dell'olio può sputare fuori l'astina dell'olio oppure può provocare perdite dai contralberi però non nella parte frontale del motore ma dalla parte posteriore al lato cambio quindi un semplice filtro come il filtro vapori olio è importantissimo sostituirlo dalle versioni dal 2018 in poi diciamo le problematiche si sono attenuate a livello appunto di questo di questo filtro e non si sono più verificati diciamo problemi legati adesso allora io vi dico questo perché ho visto in diverse situazioni qualcuno che spaventato dal trovare insomma il filtro dell'aria imbrattato di olio magari andasse da un meccanico generico e subito come prima sentenza turbina andata calma prima di arrivare alla turbina andata nel 99 per cento dei casi è solamente una questione del filtro recupero vapori dell'olio e i casi di rottura di turbina su questo motore sono abbastanza bassi ho visto pochissimi casi insomma di rottura appunto di chi ce l'ha questa vettura e comunque sia come come ripeto le probabilità che salti la turbina sono sono molto basse molto molto basse dipende sempre come viene trattata la vettura quindi se viene tirata freddo se viene fatto un minimo di cool down dopo averla tirata questi sono tutti i fattori che influenzano molto la vita di una turbina comunque sia possiamo dire che di certo non è un elemento fragile su questa motorizzazione stesso discorso vale poi per la pompa di iniezione cp4 della bosch nel video che ho fatto appunto dove avevo spiegato un po di peculiarità riguardanti a questo motore in tanti si erano preoccupati di dire ma come è la cp4 la stessa che montava il gruppo volkswagen che ha dato tanti problemi sì di fatto è la bosch cp4 è lei però di bosch cp4 ce ne sono diversi tipi ora se non ricordo male quella problematica che ha dato tanti problemi al gruppo era stata la r35 e noi su questo motore abbiamo la r43 cosa significa significa è una pompa maggiorata sostanzialmente ecco che ha una maggior portata di gasolio credo che dovrebbero andare in questo ordine r35 r40 r43 noi abbiamo questa questa r43 che a livello di rotture anche qui ci sono stati dei casi ma sono dei casi possiamo dire isolati che statisticamente parlando è una pompa di iniezione che ha dato fino ad ora pochi problemi anche per sto discorso poi andrebbe fatto chiarezza insomma sul tipo di gasolio che si utilizza e quant'altro perché sono parecchi fattori resta il fatto comunque sia sì che è una pompa delicata questo lo dico assolutamente anche perché voglio dire sono pompe che lavorano anche 2000 2500 bar di pressione su questi motori quindi capite lo sforzo che ha il singolo pompante per mandare in pressione a queste pressioni il gasolio però di rotture ce ne sono state veramente poche e sono casi isolati per fortuna ora veniamo ad analizzare altre criticità allora delle altre criticità che possiamo trovare su questo motore è il fatto che il sensore map quindi il sensore pressione del collettore di aspirazione quindi quel sensore che effettivamente ci indica la pressione dell'aria compressa appunto dalla nostra turbina tende con il tempo grazie tra virgolette grazie al circuito delle gr quindi dei gas di scarico tende ad incrostarsi diciamo che il risultato dell'imbrattamento di questo sensore è un imbrattamento dato dai vapori dell'olio che vengono messi in ricircolo appunto dal basamento e le gr questi due fattori messi insieme provocano l'imbrattamento di di questo sensore che periodicamente è meglio pulirlo e in qualche caso sostituirlo costa pochissimo 30 35 euro e perciò dipende poi da voi e questo sicuramente ho notato proprio personalmente che provoca una maggiore regolarità di funzionamento del motore e una maggiore prontezza chiaro non vi aspettate miglioramenti di 30 cavalli per dire da un sensore pulito però è evidente come il motore risponda meglio e soprattutto con consumi inferiori analogo discorso può essere fatto poi per il corpo farfallato posizionato qui sotto vi ricordo che ho fatto dei video tutorial appositi appositi appunto per la pulizia sia del sensore map sia del corpo farfallato su questo motore perciò se siete interessati andateli pure a vedere e comunque sia ritornando il nostro corpo farfallato anche in questo caso ci sono stati dei problemi a livello di imbrattamento che provocano delle irregolarità di funzionamento specie al minimo e la soluzione è semplicissima come per il map basta smontarlo si pulisce si rimonta ed è a posto insomma queste sono le due piccole problematiche che vi volevo dire sono di facile risoluzione ma comunque sia sono abbastanza comuni volevo poi spendere anche due parole riguardanti al filtro antiparticolato al dpf allora perché voglio dire questo perché ci sono dei casi purtroppo dove un errato utilizzo della vettura e lo voglio sottolineare errato utilizzo della vettura quindi non è un problema di motore ma è un problema di utilizzo della macchina mi spiego meglio se acquistate un'auto a gasolio le auto a gasolio quindi con motorizzazioni moderne sono fatte non per fare brevi tragitti se fate brevi tragitti tra filtro antiparticolato che non riesce a rigenerare e dgr voi i motori praticamente avrete sempre problemi sempre sempre a partire dall impianto di post trattamento dei gas di scarico fino ad arrivare alle incrostazioni collettore di aspirazione e quant'altro ritornando al nostro dpf se io per dire al lavoro faccio per andare al lavoro un tragitto di 15 20 minuti di guida e io in questi 15 20 con questi diciamo 15 20 minuti di guida non ho mai avuto nessun tipo di problema a riguardo del filtro antiparticolato ovvio che se utilizzate la macchina per fare 1 2 chilometri per andare a far la spesa evidentemente la motorizzazione a gasolio indipendentemente dal marchio che sia è sbagliato insomma come scelta e come acquisto se prevedete di fare questo utilizzo allora puntate direttamente sulla versione a benzina perché vi risparmiate un sacco di problemi anche perché continue diciamo interruzioni della rigenerazione del filtro antiparticolato provocano la diluizione dell'olio motore con conseguente innalzamento del suo livello e poi vi si accende la spia dentro nel cruscotto superato livello massimo dell'olio motore questo era solo diciamo per sottolineare il fatto di utilizzare la vettura per come diciamo è stato progettato il motore quindi evitate di fare 5 chilometri in città perché i motori moderni così li distruggete giungiamo poi al termine parlando diciamo delle ultime versioni di questo motore quindi quelle dal 2018 in poi nel 2018 questo motore secondo il mio punto di vista aveva raggiunto un po la pace dei sensi nel senso che i primi difetti di gioventù quali ad esempio il filtro blow by erano stati già aggiornati sostituiti con i pezzi modificati e quindi di problemi principali di problematiche insomma in sé per sé non ce ne sono più state di rilevanti ammesso che di problematiche rilevanti si possano parlare insomma a riguardo di questo motore dal 2018 in poi come ben sapete è arrivato l'SCR quindi la riduzione selettiva catalitica dei gas di scarico con il messo impianto di ad blu appunto di urea e con l'introduzione di questo impianto più o meno insomma complicato è normale che essendoci un qualcosa in più si creano anche più problemi in particolare ci sono stati questo lo voglio ribadire tantissimi tantissimi casi di anomalie riguardanti il sensore del particolato sensore del pm 10 un sensore con una piccola centralina annessa che con mi pare 150 euro così in concessionario ufficiale se non siete in garanzia si sostituisce si risolve il problema e dico questo perché le versioni per dire da 160 cavalli 190 cavalli 210 cavalli di questo motore quindi versioni già con SCR purtroppo hanno dato queste problematiche appunto a questo sensore sensore che dà problemi anche a tantissime altre case madri insomma case costruttrici e purtroppo ad oggi penso mi auguro che sia stato aggiornato questo sensore e che non dia insomma più queste queste problematiche per il resto che dire ragazzi come avete visto le problematiche inerenti a questo motore sono tutte di natura molto semplice insomma da risolvere piccole parti piccole componenti come il filtro recupero i vapori magari da aggiornare da sostituire o se no comunque sia di problematiche come vi dicevo all'inizio del filmato gravi non ce ne sono al limite da pulire qualche con qualche questo sensore il corpo farfallato oppure al limite da sostituire il sensore del particolato se no per il resto come motore che dire va benissimo va e unico accenno che vi voglio vi voglio dire che personalmente questa è una cosa che ho riscontrato e è un motore che probabilmente viste le elevate temperature a cui è costretto a lavorare in estate provoca un leggero abbassamento del liquido refrigerante questo qua quindi questo perlomeno lo dico io nel mio nel mio caso e nel mio utilizzo ecco è un calo che avviene in maniera leggera solo nel periodo estivo quindi dove le temperature chiaramente sono elevate e non si verifica nella stagione invernale autunnale e primaverile e quindi questo è una piccola cosa che ci tenevo a dirvi in più consumo olio motore inesistente perlomeno nel mio caso insomma lo controllo periodicamente per scrupolo ma non si è mai mosso di un millimetro non è né aumentato né calato quindi per quello ottimo e che dire ragazzi concludo il filmato dicendo quindi che risulta un motore generalmente estremamente affidabile per quanto riguarda la componente meccanica e le uniche noie ve le ho dette ente poi è normale che ci possono essere come avviene per ogni cosa delle rotture extra quello ragazzi ci può essere ma magari sono dei semplici casi isolati non magari attribuibili ad un difetto di progettazione o quant'altro ecco bene come al termine di ogni video vi saluto vi ringrazio di aver guardato questo video se vi va e volete rimanere aggiornati iscrivetevi al canale ciao